Musica Benvenuti a questa puntata di Spazio Salute e Sanità. Siamo in studio con il professor Giovanni Lapadula, direttore della unità operativa di reumatologia, universitaria del Policlinico di Bari. Parliamo stasera di artrite reumatoide. Professor Lapadula, che cos'è l'artrite reumatoide? L'artrite reumatoide è una malattia grave, cronica, che colpisce molte, può colpire anche quasi tutte le articolazioni periferiche dell'organismo e conduce, non curata, inevitabilmente da una situazione di invalidità. Quindi con una perdita progressiva della funzione articolare e quindi la necessità di isolarsi, cosa che accade, ritirandosi ad un'attività privata, perché spessissimo i pazienti perdono il lavoro. È molto frequente? La frequenza non è altissima, ma si calcola che lo 0,5-0,6% della popolazione sia affetto da artrite. Questo fa complessivamente un 500-550 mila pazienti in tutta Italia. C'è differenza tra artrite reumatoide e artrosi reumatica? C'è una differenza importante, perché l'artrite reumatoide è una malattia infiammatoria cronica che è caratterizzata dalla presenza di tumefazione, aumento della temperatura delle articolazioni e anche da un dolore che caratteristicamente si presenta anche di notte, anche a riposo. L'artrosi è una malattia molto più frequente, siamo attorno al 10% della popolazione, quindi ci sono tantissime persone che in età avanzata hanno l'artrosi ed è una malattia dovuta ad una degenerazione dei tessuti, della cartilagine, dell'articolazione che avviene in età avanzata e soprattutto non è accompagnata da fenomeni infiammatori così intensi, per cui il paziente con l'artrosi quando sta a riposo di notte spesso riposa bene, non ha particolari problemi che invece compaiono quando inizia il movimento, quando prova a salire una scala, allora il dolore può diventare anche molto intenso, ma a riposo non ha problemi. E l'artrite reumatoide da che cosa è determinata? L'artrite reumatoide è una malattia classificata come malattia autoimmune, si tratta di un disturbo del sistema immunitario che determina una, come dire, aggressione da parte dell'organismo nei confronti delle strutture articolari con fenomeni infiammatori e attivazione di meccanismi di riassorbimento dell'osso e quindi formazione di erosioni osse con danno delle strutture articolari e questo conduce all'invalidità. La causa precisa non è nota, sicuramente ci sono delle predisposizioni individuali che però non fanno malattia insieme con degli stimoli esterni che possono essere anche infezioni da germi banali. Adesso si sta puntando un po' l'attenzione sul Porfiromonas gingivalis, che è il germe che determina le parodontiti, che può dare un'infezione cronica delle gengive e quindi in soggetti particolarmente predisposti innescare le prime reazioni del sistema immunitario che poi negli anni possono determinare la comparsa di un'artrite. E quali sono i sintomi? I sintomi sono dolore e tumefazione di tre o più articolazioni per una durata superiore ai tre mesi consecutivi. Cioè è richiesto che vi sia un impegno di più articolazioni per un tempo, per tempi mediamente lunghi o lunghissimi, perché poi la malattia una volta che sia partita può durare decenni. Ci sono in cura ancora dei pazienti che hanno una malattia di 35-40 anni, per esempio, e questo costituisce un problema grave perché all'inizio la malattia non si presenta come particolarmente aggressiva, ma nel tempo il danno si sovrappone al danno fino a determinare una situazione di invalidità con dei quadri veramente impressionanti. Il dolore è molto forte? Il dolore è molto intenso e ha la caratteristica di essere presente in tutte le 24 ore, non abbandona mai il paziente, per cui il paziente anche a riposo durante la notte non riesce a dormire, a riposare tranquillamente e è risvegliato dal dolore durante la notte. Questo è un elemento, diciamo, importante sul piano clinico per differenziare, come dicevo prima, la situazione artrosica dall'artritico che invece è tormentato anche di notte. Deve fare degli accertamenti per la diagnosi oppure basta? No, adesso abbiamo. Diciamo che gli accertamenti che fino a circa un decennio fa erano presenti, erano degli accertamenti che servivano per individuare la presenza dell'infiammazione. Quindi si deve documentare, e tuttora si deve fare, la presenza dell'aumento della velocità di sedimentazione della proteina C-reattiva, gli esami del sangue, che aumentano quando c'è un'infiammazione. Il fattore reumatoide che è stato utilizzato per tantissimi anni come un esame di accompagnamento in realtà non è specifico, ma attualmente sono stati messi in commercio dei kit per esami di laboratorio che individuano alcuni peptidi, si chiamano peptidi citrulinati ciclici o anticorpi anti-CCP che si possono trovare nel sangue che quando presenti insieme col fattore reumatoide costituiscono un fortissimo indicatore diagnostico. Quindi nel 95% dei casi di associazione di contemporanea presenza di fattore reumatoide e di anticorpi anti-CCP si può ipotizzare, sospettare motivatamente la diagnosi di artrite reumatoide. E questo è importante perché l'accoppiamento di questi due esami costituisce un utile supporto per diagnosticare molto precocemente la malattia, perché la diagnosi in fase tardiva è facile, basta guardarla un ammalato, non ci sono molti problemi. Quando invece all'inizio si possono avere dei dubbi e la presenza di questi esami di laboratorio, quando positivi, possono essere di aiuto per avviare un trattamento precoce. Si parla di mano dell'artrite reumatoide, che cos'è, come si manifesta, come si presenta? La mano dell'artrite reumatoide, nella fase inizialissima... Credo possiamo vedere delle immagini. Nella fase inizialissima in queste immagini si vedono, c'è soltanto una lieve tumefazione delle nocche, delle dita. Le dita prendono un aspetto fusato che può apparire anche gradevole in realtà. Infatti è stato utilizzato come modello da molti pittori del passato, perché l'aspetto fusato dà un aspetto aggraziato in fondo alla mano. Ma questo è l'esordio lento ma inesorabile di una malattia che poi... La luna di miele! E la luna di miele, sì, che poi si trasforma però in una sofferenza continua, anche perché se andiamo avanti, nel tempo queste che sono modeste tumefazioni, se andiamo avanti ancora, possono diventare molto più evidenti. Ecco, in questo caso si vede molto meglio la tumefazione a livello delle nocche. Lì c'è una presenza di liquido nelle articolazioni, c'è presenza di infiammazione, le articolazioni sono calde e molto dolenti. In queste condizioni prendere una bottiglia piena d'acqua può essere impossibile. A volte anche prendere un bicchiere pieno d'acqua, perché la forza, quando è così dolente l'articolazione della mano, non può essere applicata e la bottiglia, il bicchiere sfuggono, c'è bisogno di usare le due mani oppure chiedere a qualcuno di essere aiutati per bere. Soprattutto quando poi compaiono le deformità. Qui c'è una deformità dell'anulare, per esempio, che è piegato con una deformità a collo di cigno e poi in una situazione più grave compaiono delle tumefazioni anche a livello del palmo, delle metacarpofalangie, si chiamano quelle, le articolazioni con le quali le dita si articolano con il palmo della mano. Diciamo così, io non vorrei usare dei termini troppo tecnici. E poi delle deformità gravissime, qui il polso è praticamente distrutto, il pollice ha preso questo aspetto a zeta e non ha più la sua capacità di opposizione alle altre dita, per cui stringere qualcosa alla mano è difficile. Vedete, le dita poi hanno perso la normale conformazione, non sono più utili. Anche esteticamente non si presenta. Esteticamente è impressionante, ma anche scrivere o mettere una firma su un documento in certi momenti può diventare impossibile, sia per il dolore, sia per la deformità e l'incapacità a gestire poi queste articolazioni. Questo soltanto alle dita delle mani o anche ai piedi? Questo accade anche alle piccole articolazioni dei piedi, che però si vede o meno, ma le articolazioni dei piedi sono fondamentali perché soprattutto la prima articolazione serve per dare la spilta propulsiva quando si cammina. Quando vengono colpite dall'artrite, le dita vengono a essere sublussate o lussate in alto, il pollice, l'alluce non riesce più a premere sul pavimento per dare la spilta propulsiva e il paziente è costretto a camminare un po' con l'andatura da charlot, diciamo, che è un'andatura incerta che può determinare cadute e comunque è un elemento invalidante, importante, che si può aggiungere all'impegno di ginocchia e anche in quel caso il paziente può anche essere costretto a rimanere seduto ad una carrozzella per l'incapacità di sopportare il peso del corpo con le articolazioni dolenti. Questa è l'evoluzione della malattia. Questa è l'evoluzione fino alle situazioni più estreme ed è quella che noi vedevamo negli anni 70-80. Io ricordo mio maestro, il professor Pipitone, che lei ha conosciuto, che era suo amico. È il fondatore della scuola. È uno dei fondatori dell'aromatologia italiana. E il professor Pipitone, cioè con lui, vedevamo queste situazioni terribili di pazienti che ci venivano portate in barella perché non erano più in grado di alzarsi e dovevano essere portate dalla barella a letto. Negli anni, con il migliorare delle conoscenze, con l'inserimento prima di alcuni farmaci tradizionali, adesso di alcuni nuovi farmaci biotecnologici, queste situazioni non le vediamo più. Siamo in grado di prevenire, però per prevenire bisogna intervenire presto, perché se si lascia andare la malattia per 10-15 anni in maniera naturale, purtroppo non si riesce più a tornare indietro. La malattia è soltanto delle articolazioni e basta o pure può... No, in realtà è una malattia autoimmune, quindi le articolazioni sono il segno più evidente che è quello che colpisce di più l'elemento invalidante, ma vengono colpiti anche gli organi interni, il cuore, il polmone, i reni, nelle situazioni croniche si possono avere delle amiloidosi con un'evoluzione verso l'insufficienza renale e si possono avere degli impegni anche delle sirose, della pleura, delle pleuriti o delle pericarditi che dipendono strettamente dalla malattia. E non va trascurato anche il fatto che in pazienti che hanno 10 o 20 anni di malattia e che per 20 anni prendono gli antinfiammatori o degli immunosoppressori, una parte delle manifestazioni della malattia possono essere dovute anche ad una terapia cronica fatta per tamponare la situazione senza magari riuscire a neutralizzarla del tutto. Questa però è la storia del passato, fino alla fine degli anni 90 è stato effettivamente così. Ora molte cose sono cambiate. Adesso abbiamo ancora delle inabilità e di invalidità? Le inabilità e invalidità sono spesso di vecchi pazienti che hanno avuto molti anni di malattia nei quali il danno articolare si è instaurato. Ed è questo un elemento importante che va compreso. Il danno articolare una volta che si è instaurato non può essere rimosso. Si può fare una protesi quando l'articolazione è completamente distrutta, ma far rientrare il danno che c'è stato non si può fare. Questo è un motivo ancora più forte per iniziare il più presto possibile a fare la terapia per non avere il danno strutturale perché altrimenti bisogna poi accontentarsi diciamo di fermare la malattia ma tutto il danno pregresso purtroppo rimane a carico del paziente. Il paziente può curare se stesso, può curarsi nella persona oppure ha delle difficoltà a farlo? Come gestione giornaliera? Come gestione giornaliera. In realtà nelle situazioni in cui si manifestano i danni strutturali dell'articolazione il paziente ha bisogno di essere aiutato ad alzarsi dal letto, ha bisogno di essere aiutato a vestirsi perché con le mani deformate mettersi un paio di calze può risultare difficile. Spesso deve utilizzare degli AIDS, si chiamano, cioè delle attrezzature che consentono di tirar su le calze per esempio perché non riesce a far forza con le mani.